Buon pomeriggio, ben ritrovati a un'altra intervista di Fixit. Abbiamo qui con noi adesso due rappresentanti di Sprint Reply, Emanuele Gherardini e Amelia Morricone, rispettivamente partner e manager di Sprint Reply. Con loro parleremo appunto di innovazione e digital, settore digital. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, so che in Reply siete molto attenti ai Replayers, quindi per chi non lo sapesse sono i lavoratori che appunto operano all'interno dell'azienda. E durante le mie esperienze in cui ho collaborato con voi, scusatelo, come dire, l'intromissione, ma io sono anche ambassador di Reply, e dopo magari parleremo di questo programma messo a disposizione dell'azienda. Comunque ho sempre trovato un ambiente molto stimolante e soprattutto positivo. Quanto è importante per Reply l'ambiente lavorativo e soprattutto come è cambiato nell'ultimo anno? Quindi mi riferisco ovviamente alle situazioni in cui ci troviamo tutti, quindi il Covid, come è cambiato nel senso di smart working, telelavoro, eccetera. Grazie mille per la domanda. Il valore principale di Reply e delle aziende che fanno parte del gruppo è proprio la competenza e la conoscenza di Replyer. Quindi per noi è naturale investire in iniziative che favoriscano il continuous learning e il knowledge sharing. È da anni che si organizzano centinaia di eventi proprio atti alla cross contaminazione tra le player che fanno parte di diverse aziende e non ti nascondo che da alcuni di questi eventi poi sono nate delle ottime idee che hanno portato alla formazione di business unit piuttosto che di aziende dedicate. La pandemia ci ha tolto quella che è la fisicità di questo tipo di eventi, quindi è chiaro che ci manca, manca a tutti, però nello stesso tempo essendoci trovati immediatamente online abbiamo colto, se vuoi, l'opportunità per sentirci un po' più vicini ad altri colleghi che sono sparsi per il mondo. Quindi abbiamo organizzato degli eventi stavolta globali tra colleghi in Europa, in Asia e in America. Grazie mille Emanuele per la risposta. Essendo un punto di riferimento per quanto riguarda l'innovazione tecnologica e il settore digital vorrei chiedervi come pensate che le nuove tecnologie impatteranno sulla nostra vita quotidiana o, cosa che mi immagino essere un sì, se lo stanno già facendo e se lo stanno già facendo in che modo lo stanno facendo, come stanno impattando? Le nuove tecnologie ovviamente stanno già impattando la vita quotidiana e stanno facilitando, se vogliamo, la vita quotidiana di moltissime persone, di milioni o anche direi di miliardi di persone. Come Sprint Reply chiaramente non abbiamo un campione così ampio, ci rivolgiamo principalmente ai nostri clienti, ai ragazzi, ai talenti che assumiamo in azienda e che sono in grado di aiutarci nel design di queste soluzioni innovative che poi portano grandi benefici ai nostri clienti. Le tecnologie ovviamente riescono ad impattare sulla vita delle persone anche da un punto di vista estremamente tangibile. Un'applicazione di esempio, per esempio quella dell'industria 4.0, all'interno dell'ambito dell'industria 4.0, di questo paradigma tecnologico, sono incluse tutte le tecnologie che si occupano di ottimizzare la filiera produttiva, ottimizzare le risorse, sfruttare al meglio le risorse che consentono la produzione di cibo per tutti. Questo è un esempio di paradigma tecnologico all'interno dei quali ci sono per esempio cellule di impiego di trattori a guida autonoma o di sensori di prossimità che sono in grado di raccogliere i dati dal territorio e di consentire in questo modo di ottenere il massimo dalle culture. Questo è un esempio sicuramente molto pratico e tangibile di che cosa significa oggi applicare la tecnologia per ottenere benefici e migliore qualità della vita per tutti. Grazie mille per la risposta, era quello che pensavo, mi ricollego appunto a questa domanda per farti la prossima. Allora, oltre a parlare di aspetti positivi, tu hai nominato un po' di aspetti positivi riguardo appunto l'innovazione tecnologica e il digitale, volevo chiederti quale fosse, se esiste, l'altro lato della medaglia, quindi se ci fossero dei contro, perché per quanto riguarda per esempio Sprint Reply, voi vi occupate di Hyper Automation, che significa sostanzialmente, correggetemi se sbaglio, in praticamente sostituite processi, che adesso sono fatti manualmente, comunque alla vecchia maniera, diciamo così, con soluzioni di robotica e quindi con soluzioni più innovative. Questo mi fa pensare che ci stiamo sempre muovendo verso un mondo sempre più automatizzato, sempre più connesso, con competenze sempre più ad alto livello, competenze sempre più complesse e quindi cosa comporta questo cambiamento di paradigma all'interno della società? Il punto di vista di Sprint Reply è un punto di vista condiviso da molti analisti di mercato, in realtà l'evoluzione tecnologica sta creando posti di lavoro, ne sta creando moltissimi, li sta creando anche in economie in via di sviluppo, quindi in paesi che sembravano molto lontani dall'evoluzione tecnologica e che invece adesso entrano pienamente all'interno di questo scenario ehm di di velocità e di rivoluzione digitale. E noi riteniamo che i robot possano essere considerati, lo sono già adesso e lo saranno sempre di più, dei validissimi collaboratori da parte degli umani, da parte dei professionisti. E i robot sono in grado di sostituire eh gli umani nelle attività ad alto, a basso valore aggiunto, attività manuali, per cui è un robot può fare veramente la differenza in termini di consentire al processo di avere meno errori, essere più efficace, essere più veloce, essere più accurato. Eh noi come Sprint Replay siamo assolutamente ottimisti, riteniamo che l'evoluzione tecnologica sia una grandissima opportunità per tutti. E chiaramente i robot non potranno sostituire, se vuoi questo è un po' il side effect, non potranno mai sostituire gli umani per quanto riguarda quelle decisioni che sono altamente discrezionali e quelle decisioni che prevedono eh che eh all'interno diciamo dei eh dei processi di business aziendali si debba anche adottare un po' di empatia. I robot non sono empatici, non impareranno eh almeno non sicuramente nell'immediato eh a comprendere le emozioni di altri robot o le emozioni degli umani che li circondano. Eh quindi lo scenario all'interno del quale ci troviamo eh è uno scenario di collaborazione tra robot ed umani ed è uno scenario se vuoi in cui la democratizzazione delle delle soluzioni tecnologiche eh significa consentire a tutti i professionisti, a tutte le persone che che lavorano all'interno dell'azienda e che lavorano anche all'interno di di processi di business chiave di utilizzare la tecnologia come come una commodity eh consentire loro di avvalersi della tecnologia per prendere delle decisioni più efficienti senza dover essere degli esperti eh verticali su uno uno una specifica famiglia tecnologica. Questo consentirà sicuramente a tutti eh di essere più eh di liberare eh tempo per attività a maggior valore aggiunto per cui il robot non ci potrà sicuramente sostituire. Chiarissimo quindi non rischiamo uno scenario alla Sony protagonista di Yo Robot che si mette a guidare masse di robot in giro per New York. No, noi no. No, noi no. Ah no, ci auguriamo di no. Ovviamente. Allora qui a Fixit eh una moltitudine di giovani si sono incontrate e si stanno appunto trovando per discutere come migliorare la qualità della vita. Avete nominato più volte in questa intervista che anche uno degli obiettivi di Reply è eh comunque fornire eh soluzioni eh appunto come dire prodotti che possono migliorare e soprattutto costituire un improvement per eh l'innovazione, la tecnologia e il digital soprattutto anche in Sprint Reply eh cosa che avete nominato prima. Essendo in contatto con l'ambiente Reply grazie al programma Ambassador che vorrei ricordare brevemente eh piccolo come dire piccolo momento personale scusate eh il programma Ambassador è un interessantissimo programma messo a disposizione dall'azienda eh che permette ai giovani come come me, ai giovani studenti di entrare in contatto con il mondo Reply quindi con l'ambiente lavorativo cosa che eh ahimè devo ammetterlo eh non è mh sempre fattibile eh al cento per cento per quanto riguarda eh le università. Questo ci ha permesso e mi ha permesso di entrare in contatto con l'azienda, di realizzare un po' di attività che vanno dalla promozione di eventi a lavori anche più logistici. Sì ovviamente quest'anno abbiamo fatti da eh da remoto eh però quando si poteva andare in azienda ho avuto l'occasione anche di andare un po' di volte. È stata sempre un'esperienza super appagante e naturalmente eh molto positiva perché il team con cui siamo entrati in contatto era innanzitutto pieno di giovani come come me e quindi eh come dire ci siamo trovati al volo e e poi appunto l'esperienza di entrare in contatto con l'azienda con il lavoro prima di uscire dei banchi di scuola è una cosa molto positiva che consiglia a tutti quindi se riceverete ovviamente nel fix kit eh la brochure che descrive il programma se volete altri dettagli visitate tutti i social il sito di Airply eh è un'esperienza che consiglio veramente a tutti. Eh comunque a parte questa piccola parentesi volevo ricollegarmi a questo discorso appunto parlando di giovani quindi eh quanto sono importanti i giovani per voi eh se li considerate appunto come punto di riferimento per quanto riguarda l'innovazione penso di sì perché ovviamente tutti i come dire i prodotti tutti i servizi che offrite hanno comunque una visione al futuro quindi il futuro sono anche le nuove generazioni i giovani sono sono l'innovazione sono fondamentali ehm e a mio avviso i migliori risultati si ottengono quando si unisce l'innovatività di giovani con l'esperienza di chi sta in azienda e quindi è in grado poi di eh aggiungere quel quel tocco quegli aspetti che eh un giovane non può conoscere perché non ha quell'esperienza ma che poi sono spesso importanti per realizzare delle soluzioni che poi si possono usare e ritornando un po' al tema al tema dell'evento possono poi effettivamente avere degli impatti no sulla sulla nostra vita. Ti porto un esempio recente di appunto eh che è un un risultato molto positivo di cui andiamo orgogliosi eh in sprint e cioè una delle di queste attività è stata recentemente la sponsorizzazione dell'alta scuola politecnica in cui il team che poi abbiamo seguito come sprint non solo è arrivato fra i primi all'interno della competition di di progetti ma poi anche eh creato una una startup che si chiama Gymnasio e che appunto vuole coniugare un po' il machine learning, il computer, la robotica per aiutare nella nella diciamo gestione remota della della del fitness no? Eh e del wellness quindi eh ci crediamo fortemente e come vedi come ti ho detto anche nelle nelle precedenti domande Rplay investe tantissimo in questa in questa direzione. Grazie mille per essere stati con noi questa intervista è stata molto interessante la continuerei anche per per un'altra ora però ahimè per tempistiche eh dobbiamo fermarci come si vuol dire il tempo è tiranno e niente grazie mille ancora per la disponibilità Emanuele e Amelia e ci vediamo prossimamente magari per non lo so progetti podcast se adesso vediamo e grazie mille per essere stati con noi buon pomeriggio buon proseguimento di giornata. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao.